Cigep 2020 ci troviamo allo stand della Esmac S.P.A., un'azienda vicentina che ha oltre 50 anni di storia e che realizza forni e attrezzature per la cottura, non solo per il mercato italiano, non solo per la panificazione, ma anche e soprattutto per il comparto pizzerie. Siamo in compagnia del CEO dell'amministratore delegato dell'azienda, Paolo Zunino, che invito a salutare. Benvenuto! Molte grazie, buongiorno e buongiorno a tutti. In un minuto riusciamo a raccontare laddove fosse possibile la storia di questa azienda? Speriamo di fare il nostro meglio. L'azienda da 50 anni è concentrata sulla panificazione e sulla pizzeria, dove pretendiamo di dare un impasto, un lievito madre e una cottura d'eccellenza e che siano accessibili e facili in modo da portare i nostri clienti a lavorare sempre in modo moderno, ma con tutto il bene e la golosità della tradizione napoletana o di ogni parte d'Italia e del nostro bellissimo paese. Non a caso avete come brand ambassador un pizzaiolo napoletano che fa parte dell'associazione Verace Pizza Napoletana e che è qui presente e ci ha portato un vassoio con una pizza che profuma, che insomma non ne parliamo. Che cosa presentate qui a SIGEP 2020? A SIGEP 2020 in particolare presentiamo un forno che si chiama Bakestone e che permette di lavorare e cuocere la pizza napoletana alla napoletana con un forno elettrico quindi che toglie i problemi oltre alle caratteristiche di gestire la legna e permette però di lavorare in tutti gli ambienti che nel 2020 sono sempre di più dove la corrente la fa da padrone. Quindi tradizione massima, facilità, spirito napoletano e modernità per poi portarsi in tutto il mondo. E allora è arrivato il momento di far parlare il vostro brand ambassador, Salvatore De Rinaldo. Vieni pure in campo Salvatore, vieni qui e nel frattempo hanno tenuto per loro la pizza che avevi preparato. Una pizza che profuma moltissimo, che ha a Napoli diciamo una bella faccia. Assolutamente sì. Allora innanzitutto presentiamo la pizza con l'impasto al lievito madre naturale che è una cosa molto importante anche perché il concetto di rinnovamento appunto della verace pizza napoletana proprio dallo scorso anno è partito dal disciplinare della pizza napoletana. Quindi diciamo che io direi che questa evoluzione della pizza verace fatta con De Vito Madre assolutamente è innovativo soprattutto negli ultimi anni dove si parla sempre di più di un prodotto naturale di prodotti naturali da utilizzare nelle nostre attività. Io stesso che ne faccio parte, a parte come gruppo ESMAC, ma nella mia attività utilizzo tutta la tecnologia ESMAC proprio perché mi sento sicuro, mi garantisce una stabilità, una qualità di prodotti sempre costante. Prodotti efficaci per il risultato da andare a raggiungere, prodotti efficienti per durata, robustezza e affidabilità. Sì, anche perché non soltanto parliamo di lievito madre ma parliamo di tecnologia avanzata di ESMAC quindi dalla Clemotel che è la nostra cella di lievitazione che sviluppa un processo quasi naturale di temperatura ambiente quindi possiamo gestire i vari passaggi dal freddo a caldo con la gestione anche dell'umidità. Abbiamo le nostre macchine spirali quindi con un sistema veramente avanzato di vasca anche che impasta piccoli impasti nonostante siano vasche molto grandi quindi una duttilità. E per ultimo è arrivata sicuramente che il nostro forno da poco presentato quindi ha fatto il debutto appunto in questa fiera come prodotto per la pizza napoletana quindi raggiunge i 500 e passa gradi e sicuramente per me che vengo un po' dalla scuola verace e che vengo dai forni a legna è stata veramente una bella sorpresa dove riusciamo a cuocere la pizza intorno ai 90 secondi veramente una cosa spettacolare secondo me, soltanto con 450 gradi interni quindi direi che è veramente un prodotto che ne sentiremo parlare secondo me nei prossimi anni. Ed eccola finalmente la regina realizzata da Salvatore De Rinaldi dell'associazione Verace Pizzeioli Napoletani ben cotta, molto 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 profumata ed invitante e allora questa che cottura ha avuto? Allora innanzitutto è stata cotta in un forno elettrico di ultima generazione che appunto dicevamo prima Blackstone che raggiunge i 500 gradi quindi è adatto per una cottura tipica napoletana in questo caso come vedete l'alvelatura e anche la cottura è uniforme e dappertutto quindi vi invito ad assaggiarla anche perché è fatta con l'ivito madre naturale credo che non ci sia una soluzione migliore. E allora io abbasso fuoricampo la pizza in modo da poter far leggere qual è la casella di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chieda all'altra parte desideri maggiori informazioni rispetto ai prodotti Esmac. Info chiocciolo esmac.com Potrete naturalmente scrivere, avere maggiori informazioni e chissà richiedere una dimostrazione per poter diventare clienti Esmac. Maestro Pizzaiolo, grazie. Grazie a voi e vi aspetto appunto a degustare questa buonissima e saporissima pizza. Grazie.